amici disney tube di facebook ben trovati e bentornata anche a me me lo dico da sola in una veste un po più consueta rispetto a quella dell'ultima volta mi auguro però che insomma io vi abbia portato un po di sorrisi almeno almeno così per passare un halloween un halloween più sereno e tranquillo e allora parliamo di quelle che saranno le novità che snai vi propone in questa settimana e sono tante partendo dal martedì dove potrete pensate partecipare a un mega torneo bellissimo invitantissimo di scala 40 con un monte premi garantito di 700 euro e addirittura potete riuscire a sappare il ticket per parteciparvi provando a farlo con i tornei satellite e di il buy in per parteciparci è solo di 50 centesimi altra novità importantissima quella del martedì è che parte la slot di pierino a torneo già solo il nome pierino è tutto un programma mi sento parecchio pierina io state attenti e pensate che questa è una nuovissima modalità di gioco assolutamente da provare e di tornei in questa slot pierino sono a partire da 50 centesimi per quanto riguarda invece il mercoledì altra novità al full micotone da parte di snai perché c'è un super torneo di scopa mamma mia i tornei di scopa ma ve lo ricordate l'estate al mare tra amici la sera ecco adesso avete la possibilità di giocarlo su snai un mega torneo di scopa con un garantito di 1200 euro ed anche per questo torneo pensate che ci sono i satelliti a partire da 50 centesimi ricapitolando scala 40 nuovissima slot pierino con la modalità di torneo ed infine la scopa ma cosa volete di più dagli skill che io mi travesta no basta non mi fregate più ho già dato ci vediamo anzi ci sentiamo e ci vediamo tra qualche giorno per le classifiche non perdetele grazie 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 grazie